La Schecter Devil 6 è una chitarra elettrica a 6 corde con una struttura bolt-on, il corpo in mogano, il manico in acero, la tastiera in palissandro. Ha una scala 25,5 pollici con 24 tasti X-Jumbo. Gli intarsi sono Gothic Cross. Monta due pick-up unbuckers e murdank design attivi HB105. Ha un controllo per il tono e due per il volume e un selettore a tre posizioni. Il ponte è un tom con corde passanti, le meccaniche sono Schecter. È disponibile anche il modello con ponte licensed Floyd Rose. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.